A settembre hanno inizio gli appuntamenti in presenza del nostro progetto TECLA Teatri e cultura liberi e accessibili. Il progetto ha l'obiettivo di rendere tre realtà culturali milanesi maggiormente accessibili attraverso un percorso partecipato di coprogettazione. I primi appuntamenti sono dedicati ad ATIR, Associazione Teatrale Indipendente per la Ricerca, fondata nel 1996 per sostenere un teatro popolare di qualità. Dal 2017 ATIR è un progetto nomade che realizza eventi, spettacoli, progetti di arte partecipata e laboratori di teatro integrato. Se anche tu hai voglia di immaginare insieme a noi soluzioni di accessibilità della cultura, puoi partecipare agli incontri in presenza con ATIR il 26 settembre e il 17 ottobre, dalle 10 alle 13, presso ANFAS, in via Dini 7 a Milano. L'obiettivo del progetto è migliorare l'accessibilità delle realtà culturali coinvolte e realizzare un vademecum di buone pratiche e linee guida per l'accessibilità. Per qualsiasi informazione o necessità da segnalare e per confermare la tua presenza, scrivici a infochiocciolaassociazionefedora.com. Anche il tuo contributo è importante. Ti aspettiamo!